studio sette tv e sport picciano game presenta l'intervista di pietro benvenuti alla nuova puntata abbiamo ospite allora il genere urban e matti ratti e o ratti matti perché c'è il cartone matto ratti matti dopo in questo punto se dovessi riscrivere a chi non ti conosce ancora chi è matti ratti e penso a tutto perché visto che il cartone matto non c'entra nulla ma allora bella domanda ogni volta che mi chiedono comunque da dove è partito anche il mio nome d'arte o comunque chi sono parto un attimo principalmente spiegando da dove vengo io vengo da agordo in provincia di belluno che è un paesino di 4000 persone in alta montagna sulle dolomiti in cui sicuramente metto le mani avanti sicuramente quel tipo di musica per cui di cui mi sono innamorato e che faccio io è sempre stato un po difficile da fare ecco insomma o almeno trovare delle ispirazioni o del della modi di condividerla ecco guarda sono un ragazzo abbastanza nella norma nel senso che vivo una vita normale un lavoro come tutti pago le bollette come tutti il nome matti ratti comunque guarda a parte da da quando ero un po più ragazzino perché comunque all'inizio ormai sono quasi dieci anni che milito in questa fascia diciamo della dell'essere un emergente io come tanti altri insomma bene all'inizio quando ero più ragazzino a intorno ai 16 17 anni mi facevo chiamare jmc semplicemente poi ho voluto cambiare il nome siccome tutti mi conoscevano come matti ho detto cavolo è più facile usare matti e va bene così però a forza gli dai matti non mi bastava più perché ho detto cavolo mi chiama anche mia madre matti cioè mi sembra strano che poi tutti gli altri mi iniziano a chiamare così il mio nome d'arte ho detto deve essere una cosa più potente un po che arrivi un po di più e guardi c'era sto mio amico che mi ricordo benissimo che per un periodo non so perché ma si era fissato a chiamarmi ratti al posto di matti solo lui lo faceva e mi ha mi ha colpito al punto che poi comunque sto nome l'ho legato e gli ho dato altri aspetti per esempio quando ho deciso di chiamarmi matti ratti sicuramente ero in un periodo in cui uno dei miei rapper preferiti che lo è tuttora assolutamente è fabbri fibra che è uno a cui mi sono sempre ispirato quindi mi piaceva già il gioco di parole comunque fabbri fibra matti ratti e già quello comunque è stato un un input a trovare il nome che facesse rima con il nome precedente no in più mi piaceva l'idea che i topi comunque o i ratti in generale da soli sono piccolini però insieme sono potenti quindi mi piaceva il fatto dell'unione fa la forza poi all'epoca ci ho giocato tanto questo questo nome anche perché nelle rime nei testi così è bello farci appunto qualche trick invertire le lettere o comunque infilarlo dentro in qualche rima perché suona molto bene quindi in realtà è un nome che è nato più per gioco e che poi me lo sono sentito sempre bello addosso insomma ormai la gente mi chiama così ormai prima ho scelto di chiamarmi matti ratti perché se no mi amati mi chiamava mia mamma adesso mia mamma mi chiama matti ratti quindi in realtà è diventato talmente una cosa mia che che ormai mi chiamano tutti così e quindi niente per finire di rispondere alla tua domanda guarda sono un ragazzo abbastanza semplice di 29 anni che vive in un paesino di montagna che cerca di fare una musica diversa da tutto il resto e semplicemente che si è sempre sentito tanto stretto vivendo qui e comunque a contatto con gente che mi rispetto molto ma sai quando nasci in certi posti che ti senti ti senti sempre estraneo in ogni posto dove l'hai cioè mi sento sempre sentito un po stretto e sicuramente sta musica mi ha aiutato a sentirmi diverso rispetto a tutti gli altri e lo fa tuttora e a voglia anche a questo punto parliamo intanto dell'ultimo singolo fili tesi quando nasce questo brand la cosa tra ispirazione visto che comunque vada parliamo di fili tesi sì guarda per parlare meglio di fili tesi è meglio che ti spiego un attimo quello che sarà il concept dell'album che uscirà il 5 di aprile praticamente l'album si chiama tutto calcolato appunto perché sono sempre stato una persona abbastanza metodica quindi mi piaceva l'idea di fare un concept album che ruotasse intorno al fatto che io comunque preferisco sempre avere tutto sotto controllo e e che mi piace che sia sempre tutto calcolato appunto no ovviamente non tutto perché tanti imprevisti ci sono sempre però nella vita quotidiana ho bisogno di schematizzare quindi quindi niente il titolo del disco mi è venuto così automatico diciamo e ho voluto rappresentare traccia per traccia un po quello che io ritenevo come tutto calcolato c'è una traccia in cui parlo magari appunto della mia vita in più in generale oppure una traccia in cui parlo di vicende successe di gente di cuore o vicende con una persona che mi era cara quindi comunque come io credevo fosse tutto calcolato e poi magari se i fili si sono tagliati e tutto è andato a perdersi fili tesi in realtà è un singolo che nasce proprio perché ho deciso di uscire con questo singolo proprio perché secondo me era quello che rappresentava al meglio l'album quindi il discorso dell'avere tutto calcolato il fatto che comunque io sono una persona che crede molto nel destino che ci crede nel destino che sia tutto collegato e mi sprona tanto insomma che se una cosa deve succedere succede per un motivo e mi piace anche pensare al fatto che ci sia un filo rosso che ci collega a tutti come quella leggenda giapponese famosa e di conseguenza i fili li ho sempre visti appunto come un metodo per descrivere appunto questa parte di me che mi ha sempre detto che le coincidenze non esistono è tutto è tutto scritto sei tu l'artefice del tuo destino e quando dovrai tagliare un filo dovrai tagliarlo per passare allo step successivo quindi in realtà Filitesi nasce da questo concept qui e ho voluto utilizzarlo come singolo per presentare il mio album proprio perché lo descriveva al meglio questo album che uscirà tra breve è il quarto album già sei a quattro album quindi dal 2018 a questo punto c'è una piccola pausa che tra il 22 e il 23 e il 24 si ritorna a pieno regime con il nuovo album sì esatto in realtà allora come album sarebbe esatto allora diciamo che io non ho mai fatto tanta distinzione tra EP, album, mixtape insomma io sono sempre stato uno che penna in mano, microfono, registra, scrivi, chiamalo come vuoi ma io lo chiamo album, puoi chiamarlo EP, puoi chiamarlo mixtape quando ero nel... sarebbe il quinto progetto che faccio nel 2016 da sbarbatello proprio quando uno si lega alla musica senza neanche sapere quello che sta facendo inizialmente perché sottolineo, vengo da un paese dove davvero tutto questo non c'è tutt'ora e non c'è mai stato quindi non ci sono studi di registrazione, non ci sono posti dove andare da un mentore che ti spiega come si fanno le cose c'è internet, per fortuna io e i miei amici avevamo internet perché sennò non sapevamo neanche come fare per mettere le mani avanti quindi cosa fai? Ti compri un microfono, un'asta, impari a registrarti da solo e cerchi di assemblare un album infatti il primo EP è nato... avevo appunto circa 19 anni, 18, per l'esigenza di farlo io con un produttore di un paese qua vicino abbiamo confezionato questo primo EP di 5-6 brani che si chiamava Suo Spirito all'epoca con la copertina disegnata a mano sebbene fossimo già nell'era tecnologica ancora non sapevamo come fare le copertine belle che si vedono oggi quindi un mio amico che era bravo con i disegni l'ha disegnata, l'abbiamo scannerizzata, che saluto Nathan e quindi anche quello ti dava un attimo il concetto di come lavoravamo cioè facciamo le cose perché ci piaceva portarle a termine però di base era la musica che importava tanto come lo è tuttora quindi da cosa nasce cosa poi ho fatto un mixtape di circa 15-16 tracce che era uscito all'epoca solo su YouTube anche lì mezzi prodotti, mezzi beat presi dal rapper famosissimo americano su cui il beat che hai ascoltato per una vita che ne so, DJ Premier, Mob Deep, così quindi hai sempre voluto rapparci, lo prendi e ci fai per forza una canzone perché un buon rapper di provincia che si rispetti un pezzo su un beat famosissimo americano l'ha sempre fatto e poi di conseguenza niente, crescendo ho capito che comunque questa voce dentro che mi diceva di fare le cose fatte bene e calcolare tutto diventava sempre più potente infatti ho iniziato un po' a curare sicuramente di più tutto quello che riguarda la mia immagine e la mia musica finché comunque nel 2000 e all'inizio del 2020 ho fatto uscire l'istinto e l'attitudine ci ho lavorato sì un po' in pandemia e un po' prima ovviamente e quello è stato diciamo il primo disco completamente autoprodotto stampato con la copertina, cioè curato bene insomma come andrebbe fatto quindi ho smesso di farmi da solo i mix e i master capendo che non era la mia strada perché sapevo registrarmi ma non sapevo masterizzare e finalizzare una traccia come andava fatta e finché comunque poi ho iniziato a lavorare insomma ho un lavoro tuttora quindi ho detto Matti se hai dei soldi investili in qualcosa di saggio investili nella tua musica quindi registra ok ma manda tutto in uno studio a farti sistemare le tracce così fai un level up e la tua musica magari va uno scalino sopra infatti è nato l'istinto e l'attitudine che a livello di sonorità comunque io come tanti altri feedback ricevuti insomma non tantissimi ma insomma quelli che contano mi ha sempre detto bella bella hai fatto veramente un bello step io con il mio ex produttore poi ci eravamo messi tanto lì insomma eravamo molto legati quindi si stava in cameretta tutti i giorni tornati dal lavoro si stava là e si produceva beat, rim, registrare e via poi quando è uscito Critical nel 2021 l'anno successivo mi sono proprio detto cazzo questo è un disco che insomma che sento davvero mio perché quel disco lì mi piace tanto tuttora ho sentito tanta maturità dopo che l'ho riascoltato parecchie volte ho saltato un piccolo step che è uno step importantissimo che non so come mai non mi è venuto in mente prima che tra l'istinto e l'attitudine e il mixtape che ho fatto uscire su YouTube che si chiamava Sogli occhi con il caos ho fatto uscire un altro disco che non so perché me l'ero completamente dimenticato ma si chiama L'ombra di Ciacchi che sicuramente è il disco che mi ha fatto capire che qua le cose andavano fatte un po' più seriamente lì ancora mi facevo Mixemaster da solo infatti io penso che se lo ascolti adesso qualche persona che comunque ne capisce un po' o comunque anche un sound engineer qualcuno che insomma abbia studiato e che lavora con questa musica prende il mio disco e lo usa come un frisbee perché non si può ascoltare a livello sonoro però diciamo che le parole arrivavano ed era quello che contava a noi e tutto ciò comunque è stato un percorso che mi ha portato qui a 29 anni a fare ancora la musica per cui vado matto e di cui sono ancora un fan prima di tutto prima di essere un rapper io sono un rapper di provincia come tanti ma che però crede in quello che fa e gli piace curare tutto fino all'ultimo secondo anche perché come ti ho detto noi siamo nati con quella di arrangiarci quindi da solo cerco di curare il meglio che posso la fotografia, l'immagine, i social che ormai sta lì dietro a tutti è diventata una cosa incredibile il mix, il master, la musica, i brani, le produzioni, i live perché comunque tra una roba e l'altra qualche serata la svolti sempre a gratis, male svolti le copie fisiche vendi, le vai in posta, spediscile tutto da solo quindi è chiaro che anche un salto di 2-3 anni insomma tra il 2021 e il 2024 ci stava perché ho tirato un po' il fiato ho detto boom voglio scrivere un altro disco l'ho fatto con calma finché eccoci qua insomma poi ci sono state delle vicende che mi hanno tenuto fermo per un bel po' e quando ho deciso di riprendere in mano ho detto boom adesso è ora di uscire con tutto calcolato di cui sono un po' spaventato perché ci ho lavorato talmente tanto sopra che hai paura di quello che dirà la gente dopo non tanti perché non dico di avere una fanbase enorme ma nel mio paesino qualcuno che ha il lavoro mi viene a dire ah guarda che ho ascoltato la tua canzone tutte cose che fanno piacere ma secondo me è questo ma secondo me è quell'altro poi io sono uno che si fa mille noi quindi un po' di avere il cuore in gola ce l'ho sempre però ci mandai tutto sommato sono molto felice ed è per questo che c'è stato quel salto dal 2021 al 2024 semplicemente avevo bisogno di tirare il fiato però adesso sono tornato alla carica diciamo parlando appunto del nuovo lavoro dal film di tesi che poi anticipa il nuovo disco nella realizzazione dei brani nasce prima un beat un riff nasce una parola una frase oppure possiamo dire che accidentalmente nel momento in cui sei lì nascono insieme sì potrei risponderti dicendo che in realtà tanti pezzi nascono più o meno facendo un miscuglio di tutto ciò che hai detto adesso perché ci sono produttori differenti all'interno del disco 5 o 6 produttori differenti con ovviamente 5 o 6 stili di produzione diversi metodi approcci completamente diversi con cui io mi sono trovato benissimo a lavorare alcuni che non conoscevo e che ho conosciuto grazie al disco e altri che conoscevo molto bene e con cui ho stretto un legame ancora più forte grazie al disco diciamo che allora due o tre produzioni nascono un po' da quella cosa di dire cazzo dovremmo fare qualcosa insieme te lo dici per anni per anni finché finalmente non ti deciditi è l'ora di farlo guarda vecchio ho questo pronto dimmi cosa ne pensi allora lì magari li ascolto un po' io sono sempre stato uno un po' selettivo sui beat sulle produzioni questo mi piace magari provo a cambiare sta roba qua comunque c'è sempre stato la mia presenza al 100% non quella di dire prendo il primo beat che mi passa e lo butto nel disco non è così che mi piace costruire un disco insomma in realtà di beat di pezzi ce ne sono stati io non dico parecchi ma abbiamo ho fatto un disco di 13 tracce in totale una ventina di produzioni con pezzi insomma ci sono stati poi abbiamo ho estrapolato quelli che insomma per me rappresentavano meglio il disco e che avessero più o meno la stessa sonorità dalla prima all'ultima traccia con altri invece abbiamo con un altro mio caro amico che si chiama Polish che ha prodotto tre tracce delle 13 e che ha curato tutto il mix e il master del disco in realtà abbiamo lavorato proprio a stretto contatto in studio da lui in provincia di Verona e lì proprio si andava a sentire i vari sample che magari aveva già cioppato tagliato o sistemato però comunque eravamo a quattro mani belli inquadrati insomma a dire questo mi piace questo non ci piace aggiungici un basso aggiungici una batteria aggiungici questo aggiungici quell'altro finché wow una meraviglia perfetto questo suona meravigliosamente scrivi due robe inizia a buttare giù il testo e così tanti pezzi sono partiti poi per esempio ce ne sono due o tre che ha prodotto un mio amico che si chiama Pasubium che è un altro produttore che saluto dove lui per esempio ha un altro metodo di approccio alla musica lui è un po' di strumentista suona molti strumenti magari ce l'avevamo contattati per telefono e ce l'ha sentire bella matti ho buttato giù questo giro di batteria questo giro di chitarra ci sto lavorando un po' sopra quindi cosa ne pensi quindi per esempio il brano tutto calcolato il brano King per una sera che sono che fanno parte del disco nuovo sono brani prodotti sono tutti strumentali quindi suonati interamente da lui e poi registrati e mixati e masterizzati proprio perché ha questo metodo di approccio differente piuttosto che il sample tagliato con la batteria e il basso e la cura del classico diciamo produttore hip hop o rap insomma altri un altro per esempio che mi viene subito in mente è sempre sempre un altro un altro bit di polish che mi piace tantissimo che è l'entrato del pezzo che si chiama splinter perché è un bit che nasce con un sample ed evolve fino alla fine perché lui è una persona molto che gli piace anche molto in gergo svarionare comunque cambiare le carte in tavola quindi parte da una cosa semplice e il bit e il testo evolvono di continuo fino alla fine del brano che di quello sono veramente entusiasta perché sia io che lui abbiamo detto cavolo abbiamo fatto un lavoro incredibile poi ci sono per esempio c'è un altro bit di un mio caro amico che si chiama Mole che in realtà per me è sempre stato un mentore che mi ha passato un bit che ha prodotto lui che è fatto tutto con sintetizzatori per esempio quindi c'è un altro sound ma che comunque è riuscito a dargli quella cosa della vecchia scuola che con il resto del disco suonava alla perfezione quindi diversi metodi diversi approcci ma riuscire a creare un insieme una cosa omogenea alla fine nella realizzazione invece dei testi sei come il classico rap prolisso descrittivo oppure un pochettino un po' più sintetico cercare di rappresentare il discorso in modo un po' più stile inglese dove sia un po' più sintetici ma guarda però se si è capito dalla dalla mia intervista io sono una persona prolissa nel senso che quando parto a parlare mi piace descrivere bene tutto insomma la parola è sempre stata una cosa che non mi è mai mancata quindi anche nei testi sì tendo a essere abbastanza prolisso sicuramente non mi è mai non è una cosa che mi è mai stata fatta pesare sicuramente però anzi talvolta in tanti brani mi piace molto fare molte rime che ne so per esempio il classico pezzo da 60 barre che fai in live tutto di un fiato e lo scrivi proprio solo esclusivamente perché non vedi l'ora di farlo in live che sono 60 rime una più forte dell'altra anche la cosa che ho visto e rubato con gli occhi da da mentori e da gente che rispetto tantissimo dai miei idoli per esempio i green no per dirne uno che su questo tipo di cosa è sempre stato penso il migliore e quindi in realtà ci sono volte in cui certi pezzi sono più esplosivi in cui magari gioco più con le rime faccio più rime da battaglia punchline appunto o giochi di parole così e invece altri pezzi dove insomma sono più descrittivi sicuramente tipo il brano non era calcolato è un brano molto sentito e dove ho descritto una situazione che mi ha colpito particolarmente insomma non ero neanche tanto convinto di metterlo nel disco ma alla fine ho deciso di metterlo proprio per l'impegno che c'è stato dietro e di cui ne sono comunque molto contento altri brani per esempio li scrivi cioè adesso io lo descrivo come lo faccio io poi nel senso con tutte le altre persone che fanno questo tipo di musica hanno tutti il proprio metodo certi brani li scrivi anche in un'ora per esempio però sono anche lezioni di stile tra virgolette per farti un esempio io critica il disco precedente 12 brani li ho scritti tutti al lavoro tutti al lavoro perché ero talmente sotto pressione a lavorare che tra una roba e l'altra tiravo fuori il telefono scrivo due rime le mettevo via poi altre due poi altre tre e vuoi o non vuoi ti parte la voglia e ci riempi il foglio altri pezzi li ho iniziati lasciati là e li ho ricontinuati dopo un mese comunque ci ho messo due anni e mezzo a chiudere tutto il disco e un altro mezzo anno a fare tutto il contorno quindi insomma è stato bello tante volte sono tornato indietro tanti li ho ricancellati quindi sì posso definirmi sicuramente prolisso anche nei testi e soprattutto forse troppo meticoloso a volte però insomma dai ci sta dopo tanti live qual è l'emozione che ti porti dietro nel vedere le facce delle persone e sentire quell'energia in fondo che loro ti trasmettono che tu trasmetti con i tuoi brani ma guarda allora chi più chi meno insomma modi per presentarsi live ne ho sempre avuti io sono stato sfortunato e allo stesso tempo fortunato perché vengo comunque da un posto piccolo come tanti reperi di provincia chi nasce con questa voglia di tirar fuori la propria musica di far vedere insomma voglia di divertirsi voglia di di fare di portare in giro il proprio messaggio lo fai principalmente per un'esigenza quindi cosa fai cerate ce ne sono poche te le organizzi punto come citando una rima appunto di green facevamo il palco con due bancali e quattro mattoni ecco questo è quello che noi qui a Belluno in provincia abbiamo sempre fatto quindi live puoi chiamarli tanti puoi chiamarli pochi ma sicuramente un po' sono stati chi è della mia zona ci ricorda insomma mi conosce proprio per l'impegno che io e i miei amici o comunque altri ragazzi hanno sempre messo nell'organizzare le serate e e chiamare anche dei big altri miei amici che adesso magari non sono più dentro a questa cosa all'epoca organizzavano tantissime serate e ci chiamavano sempre a me un altro giusto per fare due rime ed era una cosa bellissima perché avevi possibilità appunto di esibirti le prime robe no quindi in realtà l'approccio poi cioè io sono sempre stato uno insomma che finisce un live e dopo va al bancone con gli amici e si scanna 60 birre quindi io sono tranquillo così non c'è un rapporto nel senso che mi sono sempre sentito più alto cioè io faccio il rap sul palco perché mi piace farlo mi piace essere diverso in quel momento e dirvi quello che sto pensando ma poi scendo dal palco con voi e finisco la festa quindi quello è il mio rapporto cioè amicizia prima di tutto poi tutto il resto invece ci sono artisti oltre abbiamo citato Fabi Fibra ci sono artisti in cui un pochettino hai tratto hai imparato hai fatto tuo hai adattato le tue caratteristiche il mondo di lavorare o involontariamente ti porti dietro sì vabbè certo queste sono nel rap soprattutto sono cose che vengono quasi automatiche perché internet ripeto fa l'80% ormai della scuola di un ragazzo che inizia ad approcciarsi a questa musica cioè io ho visto tantissime interviste dei miei idoli su internet tutti che comunque dicevano che all'epoca non avevano modo di capire giustamente cos'era sto rap cos'erano come legarsi cos'erano cioè quali erano questi fantomatici rapper che sentivano c'erano 2-3 riviste in edicola o mtv alla televisione e basta quindi io mi ritengo molto fortunato ad essere comunque nato a cavallo perché non sono proprio nato nell'era dell'avvento di internet ma a cavallo tra la fine delle riviste degli mp3 e l'inizio di internet di youtube per capirci quindi è una cosa che mi ha sempre aiutato tanto a esplorare tutti i miei idoli o dire cavolo questo fa sta roba incredibile wow quindi cosa fai inizia a capire cosa ti circonda inizia a capire quali sono gli artisti della tua zona che già facevano zona insomma parlo ad esempio di Treviso che è la città più vicina a Belluno che sicuramente mi ha portato tantissime vibrazioni positive citando Mistaman DJ Shoka Frank Siciliano comunque tutta la Unlimited Struggle che per un bellunese è sempre stato un bel punto di riferimento sicuramente perché Shoka e Mista sono due leggende sono da Treviso sei neanche un'ora di strada e sai che loro sono lassù incredibile nell'Olimpo e tu sei qua giù vorresti tantissimo fare quella cosa che fanno loro perché quando hai 14-15 anni sono assolutamente i tuoi idoli quindi per citare due nomi che assolutamente mi hanno formato sono loro poi potrei veramente star qua ora perché giustamente come tanti parto dal rap italiano poi è stata tutta la scoperta del rap americano perché giustamente uno dice cazzo ma sì vorrei guardare anche in attimo quelli che sono stati i precursori di sta roba chi davvero l'ha fondata ha imparato veramente a fare le prime robe culerca dj grandmaster flash in africa bambata i primi quindi inizi proprio dagli anni 80 io con il mio ex appunto produttore dj che per esempio lui è sempre stato molto un cultore della musica black degli anni 80 mi ha insegnato molto di questa cosa e quindi sicuramente tanti idoli sono partiti a cavallo tra gli 80 e i 90 per esempio io sono sempre stato anche molto legato al Bhutan Clan e in particolare a Method Man che è sempre stato un po' il mio punto di riferimento mi piaceva tantissimo il suo approccio mi piace tuttora poi anche altri rapper dall'altra parte della costa anche Evidence per citarne un altro è un produttore rapper che comunque mi ha sempre colpito perché sempre era in gruppo con i delighted people ma quando faceva le cose da sole aveva proprio il suo cioè quello stampo che è inequivocabile quella cosa che ti rende iconico che io voglio tantissimo e che mi piace un sacco cioè l'iconicità la garanzia non so come spiegarlo il timbro cioè senti basta un mezzanota e sai chi è ed è la cosa più figa del mondo poi tanti idoli in realtà venivano a suonare intorno a me a Treviso a Bologna che comunque sono due volte mezza di strada a Bologna ci sono tantissimi concerti quindi fai le macchinate e vai prima li vedevi su YouTube poi inizi ad avere l'età 16 anni 17 prendi un treno e vai a vederteli in live quindi i tuoi idoli poi diventano cose reali cioè dici cazzo ma allora esistono li vedi in live per la prima volta ed è una roba incredibile i Gring per esempio l'avrò visto in live 200 volte e ricordo che i primi le prime cose che andavo a vedere di lui al Pedro di Padova mi ricordo di un tendone enorme a Treviso che non so neanche che evento fosse che appunto faceva i brani del disco che mi ha cresciuto tantissimo che mi ha formato molto che è il cuore e la fame dicevo cioè io stavo zitto tutto il tempo non riuscivo neanche a cantarli da quanto ero da quanto ero incredibile perché per me è sempre stata una roba assurda cioè venire da un paese così piccolo come Agordo e poi materializzarsi in una realtà come quella del rap e dell'hip hop sotto al parco davanti a qualcuno che hai sempre visto sullo schermo di un computer e per cui hai fatto chilometri per andare a vedere poi ho avuto anche la fortuna di vedere anche qualche americano in live che mi ha sicuramente formato di più a livello tecnico nulla da togliere a altri rapper italiani ma poi impari anche a rubare con l'occhio inizi a fare i primi live immaginandoti come li faceva lui che vedevi le prese di fiato per esempio una cosa che ho tanto visto sempre dagli americani il fatto che non facevano mai i pezzi interi ma facevano solo delle strofe di un pezzo e poi ne montavano un altro pezzo di beat e facendo così riuscivano a fare più brani in mezz'ora di live cosa che a me è sempre piaciuta fare per esempio dai gringa ho sempre visto questa cosa del fare tantissime barre avere un fiato spropositato e quindi sapersi gestire il fiato che è una cosa importantissima tante persone tanti di questi idoli ho avuto anche la fortuna di conoscerli e farci due chiacchiere che per me è la cosa più importante perché ti forma come artista e soprattutto ti fa crescere come rapper cioè se davvero credi in quello che fai è giusto portare rispetto a chi è venuto prima di te nel momento in cui ti stringono la mano e ti dicono piacere e ti dicono il loro nome di battesimo ma pensa al tetto cioè è una roba incredibile e quindi niente potrei stare qua ore e giorni a farti nomi anche locali per l'amor di Dio gli atlanti de foret sono un gruppo che mi ha sempre formato i due terzi asta gruppo local di belluno che quando eravamo ragazzini noi c'erano loro e quindi cazzo poi ci abbiamo stretto amicizie crescendo l'hip hop sicuramente ci ha uniti io li saluto tutti perché veramente voglio bene a tutti quanti per me sono importantissimi perché senza di loro io non sarei qua in agordo a Belluno a fare la musica che faccio e anche loro hanno avuto i loro idoli ed è tutto una cosa che si ripete ovviamente a questo punto la domanda più semplice è questo nuovo disco che è tutto calcolato oltre che già la copertina non la spoileriamo ma sicuramente sarà fantastica avrà un formato fisico oppure resterà nel mondo digitale no 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 avrà un formato fisico assolutamente i cd mi stanno arrivando abbiamo finito di fare tutte le carte la settimana scorsa quindi adesso a breve non so bene quanto saranno i tempi ma insomma intanto i cd sicuramente arriveranno poi si vedrà se riesco a tirarsi un po' di soldi per fare altro però bene o male io le copie fisiche dei miei dischi le ho sempre fatte le ho sempre garantite le ho sempre vendute e sempre lo farò anche perché sono cresciuto con quella scuola che finché non vedi il tuo disco stampato non è un disco fatto ok l'avvento di instagram dei social comunque di spotify tutte le piattaforme digitali ma quella cosa di avere il proprio cd in mano è fantastica quindi sicuramente arriverà la copia fisica sicuramente tornerò a fare la fila delle poste per spedirne un po' e ne varrà sicuramente la pena perché quando arriva la gente ha dei ragazzi insomma che che mi mandano un messaggio mi dicono grande continua a farlo è così per questo che continuo a fare le copie fisiche poi non ci guadagni mai un cazzo perché alla fine da indipendente così spendi tanti soldi per fare un disco e forse torni in pari forse ma chi se ne frega cioè non me ne frega proprio assolutamente non mi ha importato niente di tutto quello quindi le copie fisiche le faccio non tanto per venderle per guadagnarci dei soldi ma che magari tra dieci anni che ne so il mio fratellino più piccolo che adesso ha otto anni tira fuori un mio cd e diceva questo era mio fratello dieci anni fa quindici anni fa sono cose che rimangono nel tempo e sperando che ci siano sempre i lettori per ascoltarle ma ma insomma è bello così dai tutto qua comunque sì ci sarà per correggerti in realtà la copertina l'ho già spoilerata l'ho buttata fuori la settimana scorsa perché volevo fare volevo seguire un bel filone sui social network far uscire prima la copertina poi il il singolo e qualche altra sorpresina che arriverà nelle prossime settimane con cui stiamo lavorando ma non ci fermiamo mai abbiamo tanta roba tanta tanta merce tanto tanto prodotto diciamo da buttare fuori per quanto riguarda la musica e ho già dei singoli pronti dopo quindi in realtà non sì ce n'è ce n'è per per quanto ne vuoi insomma basta non perdere mai la voglia di farlo a questo punto mancano due cose fondamentali dove poterti raggiungere e poterti ascoltare e saluti finali sì beh come ormai tutti nel 2024 potrete semplicemente scrivere cercare Matti Ratti su ogni piattaforma Instagram mi chiamo Matti De Ratti tutto attaccato Facebook c'è la mia pagina su Spotify la pagina Matti Ratti le ho trovate tutta la mia la mia roba su YouTube ci tengo anche particolarmente che ci sono dei video che abbiamo curato bene insomma che sono divertenti anche belli da vedere insomma che la pagina è sempre quella Matti Ratti e e niente comunque il mio profilo è dappertutto basta cercarlo e e lo si trova comunque poi sai collegamenti Instagram i link nella bio trovi tutti quanti i collegamenti alla fine si sa benissimo che appena trovi la pagina di Instagram e quella di Facebook sei a posto hai trovato tutto il resto bene allora io ti ringrazio per lo spazio dedicato e per questa bella intervista mi scuso se sono stato un po' prolisso ma come abbiamo detto prima sono così e lo sono punto e basta e ebbene dai saluto chiunque abbia voglia di vedersi questa intervista che mi fa molto molto piacere e ci vediamo al 5 aprile quando esce tutto calcolato perfetto abbiamo finito Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro Ciao Ciao Ciao